Eurociocolate e il Gabon, una firma per? Una firma per un accordo di partenariato di tre anni per creare opportunità commerciali e culturali sul cioccolato in Gabon. Tre anni che dovranno servire innanzitutto per un trasferimento di know-how, un educational trip che vorremmo organizzare entro il 2016. Poi per concretizzare il tutto con un evento dedicato al cioccolato, al cioccolato gabonese ma anche al cioccolato africano e internazionale. E infine per gettare le basi per un progetto a medio termine, un pochino più a lungo termine, che è quello di creare uno stabilimento produttivo di cioccolato gabonese che deriva direttamente dal cacao in loco e da realizzare tutto nello stato del Gabon, con tecnologia e know-how internazionale ma con manodopera e con elementi di produzione e tutti in loco. Eurociocolate è sempre più internazionale? Eurociocolate è sempre più internazionale, è un processo ormai iniziato da qualche anno che è testimoniato anche dalla presenza che noi abbiamo al Expo 2015 dove siamo official content provider per quello che è il cluster del cacao e del cioccolato. Cioè siamo un riferimento che ormai non è più un riferimento solo per la nostra bella penisola ma per tutta l'Europa e per tutti i paesi produttori di cacao. Cioè quei paesi della fascia equatoriale dell'Africa, del Sud America e dell'Asia che ci riconoscono come loro interlocutore.